Era stato ricoverato in codice rosso al bonomo di Andria a causa delle gravi fratture riportate al cranio, ma non ce l'ha fatta il 62enne precipitato ieri mattina dal secondo piano di uno stabile di Andria. L'uomo, Leonardo Noia, stava effettuando dei lavori sul balcone di un appartamento in via Don Minzoni, ma per cause da accertare precipitato nel vuoto. Da una prima ricostruzione, sembrerebbe che Leonardo Noia, tappeziere in pensione, stesse operando su una veneziana dell'abitazione di una conoscente, ma avrebbe perso l'equilibrio mentre era su una scala precipitando nel vuoto. Immediatamente soccorso dagli operatori del 118 dell'equip Mike 8 di Andria 1, il 62enne è stato trasportato nel reparto di rianimazione del bonomo, dove è stato sottoposto ad esami diagnostici a causa delle gravi lesioni alla testa, ma è morto poco dopo. Sull'incidente sta indagando la polizia del commissariato di Andria.